E l'avvocato Pia Perrici, la candidata a sindaco di Pesaro per la lista civica Vieni Oltre. La scelta è stata condivisa in un'assemblea pubblica tenutasi sabato mattina nel comune di Pesaro, durante la quale sono stati ripetuti i principi e le intenzioni della lista dei cittadini e per i cittadini, a presentarla al pubblico un veterano della politica come Italo Campagnoli. E così hanno deciso i miei compagni di viaggio e sono contenta, emozionata e assolutamente non preoccupata e anzi sono molto fiduciosa perché sono sicura e certa di riuscire a portare a termine tutto il nostro programma e tutte le nostre iniziative perché il calore dei cittadini lo stiamo sentendo in ogni istante tutti ci dicono di andare avanti e cambiamo passo. Dopo 75 anni basta uomini, andiamo avanti con una donna bionda sindaco. Una lista civica che sta andando avanti ormai da qualche mese, come è andata l'attività? L'attività è andata molto bene perché abbiamo iniziato con, eravamo quattro amici al bar, poi siamo diventati cinque e veniamo contattati da diversi cittadini che ci propongono alcune iniziative, altri ci contattano per problematiche di comunicazione che hanno con l'amministrazione comunale. Ci stiamo pian piano ingrandendo anche perché devo dire che purtroppo non abbiamo l'aiuto da parte dei quotidiani che molto spesso ci boicottano e non pubblicano i nostri comunicati stampa. Nessuna alleanza con il partito di maggioranza e opposizione. Unendoci ai partiti storici, spiega l'avvocato Perrici, non potremmo mai opporci a nulla e poi, prosegue la candidata sindaco, hanno regole che a noi non piacciono. La lista civica viene oltre e vuole riavvicinare i cittadini alla politica perché ritiene che l'attuale amministrazione comunale ha governato senza coinvolgere nessun altro. I nostri argomenti sono la vita, la vita di Pesaro e la vita dei giovani, la vita degli anziani, la vita delle famiglie, lo sport, la salute, l'educazione, la vita amministrativa. Noi vogliamo che i cittadini diventino un tutt'uno con l'amministrazione comunale, che partecipano attivamente all'amministrazione comunale e non il contrario. Un messaggio, perché scegliere la lista civica viene oltre? Perché siamo noi, perché siamo diversi, perché siamo il nuovo, perché siamo fiduciosi, perché siamo una ventata di vento fresco di tramontana che porta via tutto il politicante che c'è e che c'è stato sinora.